Secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie! Bello sapere palleggiare con la carta igienica, impara a palleggiare con le gomme Letteralmente ne ho giftate 100 la settimana scorsa e manco, è partito l'alerta alle 50 emoti con triste Ho detto raga, tra OBS, tra Stream Elements, tra Twitch, ormai... Ma no, in realtà mi sa che mi hanno bannato Sì, t'hanno silurato, marzo Per timbro, foto, un altro gormacchinone Gatti Oggi frate me so, me so, mentre me, me so girato, me so girato un trillone con una pagina di un libro di filosofia Enzdrongo, enzdrago Bentornato in stalla, Tommy bentornato, Dark grazie per i sub Mario il... grazie per i 15, Cazzella bentornato, Kaip grazie per le 10 sub giftate Vai più sopra, questo te fa simbolo della fica Eh raga, giusto così la potete vedere, eh Che scherza, ovviamente, anche perché se poi me picchi in lane giusta, te sei, sono rovinato In... Tomaga Cipasa Piesca, piore, bentornati e benvenuti, mob 100 So quindicesimo Marco è, mamma mia, si è piata, si è piata il pilastro del cemento, Marco Evan Avrebbe fatto ridere, devo essere questo Comunque io c'ho, io c'ho palesemente una moto che è di merda C'ho la body sul terzo Ma forlè ha rotto il cazzo Oh, io sono il conto di Dracula Porco Dio, che meme Che meme, Marco Evan Non era proprio, non era proprio ora di dire Non è possibile, ma perché, ma non è, ma basta Che se Luca, passa, diventa il ministro e risponde Vabbè No, ma fai a lui le regole Ma che cazzo è diventato La società, zio porco, c'ha il 99% dei cuo di lui Ma che è? Ma io, ma da un tempo ero io Bene, andiamo Bello Alessio Bello Attenzione, perché siamo partiti comunque nello stesso modo, eh Buo, del Burj Khalifa, praticamente Grazie per le serate Ehm Genitori Dei Suoi Genitori Pip Morti Nooo Sazzo Genitori Dei puoi Questo me l'ha letteralmente fatto Io c'è stavo sul taxi che l'ha fatta a Napoli Questa cosa l'ha fatto esatto Poi ci ha guardato ha detto Eh vabbè Oggi ho fatto una cosa Non mi ha mai Sembra che mi hanno fatto una Ice da Peter E mi dispiace E così a lei sento Lo so, lo so, lo so Lo so Pazza che figlio, Peter Guardalo, guardalo si, forfa Guardalo Basta con le scuse Il suo lavoro è quello di proteggere gli studenti Non di abbandonarli È licenziato Pugno Venom Ma Indovinate dopo che c'è Aspetta Dopo facciamo un po' più E La gente come noi non molla mai Ragazzi Voglio ringraziare Già La scuola Tutte le professori Avevano fatto E Ringraziare Ehm 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 I have been following you for a very long time Can you say hello I have cancer And I have a very bad day I have cancer too I'm playing clash Clash Royale Alto Rettangolare Tra star molecolare diventi Anna Pena A 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 Dennis bentornato Joe e Zanu Bentornati stalla boys A frate C'avemo pure Ervido De Poldo Anzi Nel rilla di Di E il rosso e Cosa Non è possibile Ma è il clown di Hunter Hunter E' uguale E' caduto in battaglia Per caso t'ha passato il contatto giocherino E' caduto in una battaglia più grande di lui Ha provato a far vincere Lewis Hamilton sulla gara Boba Atroce Orribile Ma che è Cazzi ma Cazzo fratello ecco dove si trova questo puttanone Che è Ciao Giangranchio sono arrivato a Ibiza finalmente Ci è anche il corpo della Gambirasio Giamo sai già quando sarai a 200.000 euro al mese Frate Ma non ti puoi tenere così basso perché magari te sto sul cazzo e in quel momento sei preso a male Ma che è Fammi la G